Non è da un gol, Presidente? Allora, Presidente, ha detto e l'ha fatto, vicino alla squadra più di prima. Sì, purtroppo c'è bisogno di organizzarci per essere più presenti. Un po' tutta la società, quindi a turno, in base ai nostri impegni, dobbiamo trovare dello spazio per essere qua, per essere a controllare le cose e far sì che tutto vada per il meglio, perché la vicinanza della società è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Quindi adesso dobbiamo accelerare e farci sentire, perché una società come la nostra, precisa, puntuale e organizzata, non può permettersi di assentarsi, come probabilmente abbiamo fatto e contribuito alla brutta prestazione di Domenico. Ma che è successo a Campobasso, effettivamente? A Campobasso è successo, perché il Campobasso è una squadra da Lega Pro, giocatori fortissimi, e noi abbiamo giocato male, perché noi abbiamo giocato male, altrimenti non avremmo perso 4-0, altrimenti non avremmo mostrato quel calcio bruttissimo che abbiamo mostrato a Campobasso. Io non posso credere che le nostre partite di campionato, dove ci hanno elogiato tutti, non posso credere che le amichevoli fatte anche col Savoia, siano state un caso. Noi siamo una squadra forte, però che ha giocato malissimo e quindi ha preso una punizione meritata, un'umiliazione meritata. Lei comunque è sempre sul mercato? La società è sempre vigile sul mercato, perché in queste categorie non bisogna lasciare nulla al caso. Nel momento in cui ci sono delle opportunità vanno colte. Ecco, i giovani, che fino adesso non è che abbiano dato quello che ci si aspettava? Ma i giovani sono ragazzi che hanno delle qualità e le devono mostrare, devono crescere. Purtroppo in un paio di episodi hanno cagionato qualche danno alla società, nel senso che si sono perse delle partite per qualche piccolo errore, però in linea di massimo i nostri under sono a livello degli altri. Ecco, sulla prosecuzione o meno dei campionati? Il campionato prosegue, è uscita adesso la comunicazione, prosegue, ma domenica avremo la possibilità di dare in diretta streaming la partita, anche con un paio di telecamere sui nostri canali ufficiali e su tutti quelli che condivideranno la nostra diretta. La partita di domenica è un pronostico di riuscita a risollevarsi questa squadra? Io mi aspetto che domenica si faccia una grande prestazione, mi aspetto che domenica si provi a vincere la partita, per me e nelle nostre possibilità, dobbiamo giocare al 110% per portare a casa i risultati. Mi aspetto che in queste tre partite casalinghe si facciano dei punti che ci riportino in una posizione di classifica consona.